Bomber, Zampar, un'altra doppietta, un inizio positivo dopo forse non abbiamo replicato quanto ho fatto di buona apertura. Credo che hai descritto la partita perfettamente, anzi, siamo partiti pure male, quindi mi ha fatto bene dal ventesimo, credo, quindicesimo in poi, nel momento in cui abbiamo segnato, il gol ci ha dato una mano, ci ha un po' sbloccato, nel secondo tempo è una mentalità che personalmente a me non piace, però è stata questa la partita e abbiamo dovuto stringere i denti e tenere il risultato, abbiamo portato a casa la vittoria che è l'unica cosa che conta. Tutto sommato anche nei 45 minuti successivi un po' meno lucidi, ma comunque la tenazza per portare a casa il risultato. Sì, abbiamo dimostrato già in un paio di partite che quando vogliamo dobbiamo portare a casa il risultato a tutti i costi, se la facciamo lottando, però tante volte entriamo in secondo tempo e non abbiamo la mentalità vincente magari del primo. Questa è una cosa che purtroppo ci siamo portati dietro diverse partite, i punti sono arrivati lo stesso, vuol dire che siamo una squadra che riesce a portare a casa la vittoria in un modo o nell'altro, però per le ultime tre partite dobbiamo cercare di cambiare anche questa mentalità. Da un punto di vista personale preannunciavi quota 20, oggi hai messo un bel aiuto per arrivare a questa cifra. Sì, diciamo che sono contento per la doppietta, al 50% però perché oggi avrei potuto fare la tripletta, mi ha fatto un salvataggio al primo tempo in scivolata, è un'occasione forse secondo che poteva essere più il più lucido, ho provato a sorprendere, calciato di prima ma ho calciato male. Comunque alla fine sono soddisfatto e la bellezza dei gol è quando porti a casa i tre punti, oggi ho fatto una doppietta e ho portato a casa i tre punti e questo è il bello.